C. Artigiana Sposa dal 1974 è leader nel settore della sartoria artigianale di abiti da sposa e prima comunione, personalizzati secondo le vostre esigenze. Collezione in corso a partire da 1100 euro. Guanti, velo, acconciatura e cuscino per le fedi in omaggio. Per i più piccoli, offerta abiti prima comunione e monacali a partire da 30 euro. Coroncina e crocifisso in omaggio. Visitate il nostro showroom in Diamazzini 146 a Pomigliano d'Arco, Napoli. C. Artigiana vi aspetta!